Amici sportivi, anche oggi eccomi qui con tutte le ultime novità dal mondo della WWE, ma prima vi ricordo che stasera alle 22.40 su Blaze, canale 119 di Sky, tornano i combattimenti tra robot con Battle Boats, con io e il Godzilla Luca Franchini nel cast del programma. Non lasciateci soli, io vi aspetto, ve lo ricordo ancora, 22.40 su Blaze, canale 119 di Sky, e ora a noi. Ieri John Cena ha festeggiato i 15 anni dal debutto in WWE, io credo che nessun altro wrestler abbia mai avuto un impatto mediatico mondiale così importante e soprattutto così duraturo come John Cena. Certo ci sono stati nomi che hanno fatto epoca, ma giusto per fare degli esempi, Al Kogan non poteva sfruttare la potenza di internet e la permanenza al top di gente come The Rock o Stone Cold Steve Austin è stata molto limitata nel tempo rispetto a quella del ragazzo di Boston. E allora, briglie sciolte qua sotto nei commenti dove, se vi va, potete condividere con me e con gli altri i vostri John Cena moments preferiti. Dateci dentro, sono curioso di leggere quello che mi lascerete scritto. Chiudiamo con quattro notizie rapide ma succulente. Partiamo da Naya Jax che ha raccontato di come lei e una sua parente, mi pare di ricordare sua zia, furono coinvolti in un grave incidente stradale poco prima dei provini che l'hanno portata in WWE. Quando un autista ubriaco andò contro di loro, contro la loro auto, nel più classico dei frontali. Come conseguenza di quanto accaduto, da allora Naya ha una placca metallica inserita all'altezza della clavicola. Ed è una news che a me piace, piace perché ti succede un problema, qualcosa di grave, qualcosa che sembra far andare storto i tuoi piani. Ma la lezione di vita sta tutta nel non arrendersi, nell'affrontare il presente e il domani con spirito combattivo. E questa lottatrice pare possedere in enorme quantità tale talento. Andando ad altro, ma sempre restando su atleti a cui la vita ha fatto qualche scherzo di troppo, passiamo ora a Tyson Kidd. La WWE starebbe vagliando nuovi possibili ruoli da proporgli, perché la sua carriera ormai nel ring pare sostanzialmente conclusa e terminata. E tra le opzioni ci sono quella del dirigente sul campo e quella forse più adatta dell'allenatore al performance center. Questo permetterebbe a Tyson magari anche di avvicinarsi un pochino di più alle attività di sua moglie Natalia. Staremo a vedere. Di recente, Eva Marie, impegnata al momento in due progetti cinematografici, ha lasciato intendere di non aver chiuso la porta al wrestling e che le piacerebbe un giorno provare a tornare in WWE. La ragazza ha anche aggiunto che spera che il suo personaggio, quello che le era stato assegnato, non venga o non sia ora proprietà, diciamo così, di lana, perché le piaceva. Almeno questo è quello che ha lasciato intravedere. Quindi un personaggio ritenuto incapace da un certo tipo di pubblico che richiamava su di sé parecchio tifo astioso contrario, effettivamente per Eva, ma anche per me era un'idea geniale. Perché il wrestling è questo, scatenare una reazione. E il personaggio di Eva Marie riusciva a farlo in una maniera quasi endemica, epidemica. Di conseguenza funzionava. Si riuniranno le strade? Non lo so. Però il wrestling, la WWE, non è uscito, non è uscita dal suo cuore. Chissà. Voi la rivolreste. Io sono pronto a scommettere che molti di voi mi diranno nei commenti no, era scarsa. Ma scarso non significa che non va bene per il pro wrestling. Chiudiamo con, vabbè, una telenovela infinita, dai. Quella che riguarda a peggio Alberto Del Rio. Perché nei giorni scorsi si era diffusa la voce di una rottura sentimentale tra i due. Alimentata anche dai messaggi social della ragazza. Io non so voi cosa ne pensiate, ma secondo me, in tutta onestà, questa sembra soltanto una tattica pubblicitaria e promozionale di Page e di Alberto per far parlare un po' di sé. Certo è che questi qui stanno avendo una vita molto movimentata. Roba dal cinema, roba dal film. Chissà come andrà a finire per tutti e due e soprattutto per Page. Chissà se tornerà in WWE, se tornerà a combattere, oppure se la sua carriera prenderà una parabola discendente, come onestamente sembra aver imboccato da tanti mesi, forse anche da oltre un anno, un anno e mezzo. Ma staremo a vedere. Beh, per oggi è tutto. Oh, SmackDown, stasera alle 19 Sky Sport 3 e poi alle 22.40 su Blade, canale 119 di Sky, tornano i combattimenti tra robot. Io e Luca Franchini vi aspettiamo. D'accordo?